Musica Sul lavoro stamane alla fiera di riva della Garda, otto operai occupati nell'ampliamento della padiglione. Ci sono caduti da un'altezza di circa 4 metri dopo che ha improvvisamente ceduto il pavimento in costruzione. Gli operai, in totale una ventina, stavano realizzando la gettata ma qualcosa è andato storto. Il più grave è un 53enne di Ala che è stato ricoverato in ortopedia a Rovereto con una politrauma. Stessa diagnosi per un altro operaio trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento e che in un primo momento sembrava quello più a rischio. L'uomo invece sarà probabilmente dimesso già in giornata. Per gli altri 6 solo ferite lievi sono stati medicati presso i nosocomi di Arco. e Rovereto ancora da stabilire con precisione le cause del perché la soletta abbia ceduto. Indagano i carabinieri di riva del Garda.